Mercedes-Benz è tra le protagoniste della 37esima edizione del Bologna Motor Show, presentando due anteprime italiane che sottolineano l'impegno della casa di Stoccarda nello sviluppo di vetture sempre più efficienti ed ecosostenibili. Sotto i riflettori della Kermess bolognese, la nuova B200 Natural Gas Drive, ambasciatrice della nuova generazione di vetture ad alimentazione bivalente benzina-metano firmate dalla Stella, e il concept classe B Electric Drive, che anticipa la versione 100% elettrica, attesa per il 2014.